Marco, buon'ora, una sconfitta arrivata nel finale che produce tanta amarezza? Sì, produce tanta amarezza, produce la amarezza se finiva 0-0, figuriamoci se dopo la sconfitta, quindi chiaramente è una sconfitta che fa male nel senso perché è meritata al 100%, se qualcuno vuole incontrarla, penso che sul campo la mia squadra merita di vincere. Dopo questo episodio del gol ci ha munito la final, non so quando, però penso che la partita, le situazioni, i pericoli e i mercati molti più noi, non ho quasi niente, penso. Che cosa vi è mancato? C'è mancato il raccicinismo, la scelta giusta, invece di tirare la ben passata, invece di passare la ben tirata, alle volte nel primo tempo, attraverso la clamorosa, penso che c'è mancata la scelta giusta, quello che facciamo fatica a fare in campo, quello che poi il giocatore deve cercare di trovare la soluzione in campo, perché deve vedere quello che c'è da fare e che è giusto o sbagliato. Lo ripeto, non posso imputare nulla ai ragazzi perché hanno fatto la prestazione gestata, quindi noi da lì dobbiamo partire e ci deve dare forza per andare avanti, perché partite come queste, penso che se ne perdono poco, se riusciranno a fare, magari far meglio. Grazie.